La cultura è una delle scommesse fondamentali che il nostro Paese in queste transizioni ha chiamato ad affrontare. Cultura che è cultura dell'individuo, quindi della persona, e che coinvolge il sistema familiare, educativo, di istruzione e di formazione. Però cultura è anche un qualcosa che si può declinare in campo finanziario e in campo economico, in campo previdenziale, in campo sociale, credo che di cultura ci voglia proprio. Noi, pur in tutte le diversità, come professionisti, abbiamo una caratteristica comune. Siamo professioni regolamentate da ordini professionali, quindi abbiamo albi, elenchi, che vengono gestiti da questi ordini, o collegi che siano, e che devono tenerle in nome e per conto dello Stato perché noi esercitiamo una finalità pubblicistica. Qualcuno correttamente la chiama fede pubblica. Le nostre competenze, le nostre conoscenze, le nostre prassi, le nostre attitudini si confrontano in maniera responsabile, ma che deve essere, per essere responsabile, deve essere anche autonoma e indipendente, di fronte all'esigenza degli utenti, dei nostri iscritti. E in questo la funzione pubblica e la finalità pubblicistica è importante. Sono professioni intellettuali, non dimentichiamocelo. Credo che ci sia un dibattito in corso per migliorare la componente formativa. Qualcuno addirittura ha rispolverato la funzione e l'ipotesi di abolizione del ruolo legale della laurea come momento ineludibile di un passaggio migliorativo della qualità delle nostre università. Io non ne sono particolarmente convinto, dico la verità. Mi sembra da medico voler buttare via il termometro quando troviamo che abbiamo la febbre, insomma. Però nello stesso tempo ci sono dei momenti in cui la cultura poi diventerà, avrà un riflesso pratico. Se pensiamo per esempio a una parola che oggi viene molto usata, la parola conciliazione. Io su conciliazione studio lavoro credo che insomma sia intuitivo comprenderne gli ambiti e i perimetri. Sulla conciliazione famiglia lavoro altrettanto, soprattutto riferito alla componente di genere. Sulla conciliazione vita lavoro ho qualche perplessità. Quasi che ci fosse un'antitesi, quasi che da una parte c'è lavoro dall'altra c'è la vita. Preferisco vivere per carità, è interessante. Però sappiamo che i nostri padri costituenti hanno identificato la nostra come una Repubblica democratica fondata sul lavoro e negli articoli 2 e 3 della Costituzione ci sono i diritti e i doveri, ci sono i momenti di coesione e di funzione sociale della dignità lavorativa. Non si parla di libertà, si parla di lavoro come elemento fondamentale e quindi lanciare questo concetto quasi antitetico tra lavoro e vita secondo me dal punto di vista culturale potrebbe impattare negativamente sulla costruzione di una visione sociale di coesione e di inclusione della quale in questo momento abbiamo bisogno. Proprio in questi giorni è uscito un articolo, successivo all'intervista di Mario Draghi che appunto identifica nell'esigenza di cooperare, di essere coesi, una delle poche possibilità di rilancio della nostra Europa che non ha difesa autonoma, non ha politica estera autonoma, ha una fiscalità talvolta che porta dei fenomeni di dumping interno e che ha inteso in maniera contrappositiva interna tutto quello che invece deve essere lo sviluppo della produttività.